E' ciò! Perché hai starutito? Ti senti male? Prendi le vitamine, fai un po' di aerosol, vieni, bevi lo sciroppo. E' da solo un po' di polvere! Oddio, l'allergia servono gli antistaminici. Dov'è l'adrenalina? Pronto dottore? Mio figlio ha starutito così tal niente. Serve subito un'ambulanza. Mamma, sto bene! Ecco, ora sta anche delirando. E' ciò! C'ha fatto? Mi sono sbucciato un ginocchio. Pisciaci sopra! Mamma mia, qui, fuori! Che succede? Si è sbucciato un ginocchio. Oh, piccinino, vieni, mamma ti ci dà un bacino così passa tutto. Passato? Insomma. Ovvio, allora ce ne do un altro, con due bacini deve passare per forza, eh? Cos'è questa cosa bianca? Ah no, è l'osso, niente, niente, me l'ho spaventata. La prossima volta che ti fa male ti ce ne do di sole, eh? O vediamo.